Salve ragazzi e bentornati in un nuovo video di Guido Tramontano Oggi sono particolarmente felice Perché? Perché è arrivato questo Girada Per chi non lo conoscesse Lo vediamo dopo che sito è Comunque è un sito di Napoli Che mi ha permesso di acquistare il Samsung Galaxy Note 8 a 320€ Io ho venduto il mio bel Samsung Galaxy S7 Edge E l'ho venduto ad un prezzo superiore addirittura Di conseguenza diciamo che l'ho acquistato il Note a 0€ Se non anche a meno qualcosa Nel senso che mi sono stati dati dei soldi per ricevere il Note A prescindere da questa cosa scherzosa Volevo ovviamente dire anche a voi che mi seguite su questo canale YouTube Come ho fatto Anzitutto mostrandogli questo screen del sito di Girada Nella mia pagina personale Potete vedere che questo prodotto non mi è stato mandato Ma l'ho acquistato Come l'ho acquistato? L'ho acquistato mediante questa lista Questa lista è una lista fidata di un mio amico Ed è per questo che prima di cimentarmi in questa nuova esperienza Ho parlato molto con lui Lui è un admin della pagina Acquista anche lui ovviamente dalla sua stessa lista È una lista non satura Ha più o meno 300 membri E ci permette di acquistare in maniera rapida su Girada Vedremo anche cosa sono le liste Intanto godiamoci l'unboxing E ci permette di acquistare in maniera rapida sui Benissimo Come potete vedere il prodotto è in ottime condizioni Ultra imballato nel pacco E ovviamente originale Con tutti i sigili del caso Ma come si fa ad acquistare su Girada? Girada è questo sito qui Un sito che ci permette praticamente di acquistare In maniera assolutamente garantita Quelli che sono dei prodotti a prezzi stracciati Ovviamente il sito non è pazzo Non vende un Galaxy Note 8 anziché a di 1000€ Anche Amazon ne vende a 9,50€ in questo momento A 320€ Ovviamente non è così È possibile acquistare un Note 8 a 320€ Per l'esempio c'è fatto che su questo sito si acquista a catena E qui dico Attenzione Ho visto molti siti che parlavano di Girada Molti youtuber che parlavano di Girada Prima di praticamente acquistare stesso io su Girada Volevo capire se effettivamente il sito era sicuro o no Poi il mio amico ha aperto questo canale Telegram E di conseguenza mi sono praticamente catapultato nella decisione In ogni caso Girada non è uno schema Ponzi Schema Ponzi che è uno schema matematico Di un economo che partì per l'America E praticamente in cerca di fortuna Non la fice Finì in galera In galera incontrò un bancario Incontrando un bancario Questo dottor Ponzi Di cui si prende il nome lo schema Iniziò ad interessarsi di economia Interessato di economia Uscito dalla galera Iniziò a truffare le persone Con uno schema che praticamente prometteva alle persone il denaro In termini di investimenti bancari Dando ovviamente poi un ritorno in azioni molto maggiore Ovviamente però capirete che c'erano delle persone Che rimanevano senza denaro Truffate Perché? Perché si creava una catena di Per esempio persone In cui due persone ne aiutavano una A queste due persone poi ne dovevi trovare altre Quindi quattro che aiutavano queste due E così via Fino a creare una catena Una piramide esponenziale Girada non è così Perché su Girada si possono trovare questi prodotti Acquistando a catena è vero Ma con catene che ti permettono Praticamente di acquistare dei buoni sconto Fino a quando vuoi tu Mi spiego meglio Che cosa faccio? Vado sul sito di Girada Mi piace il note Lo pago 329 euro Vado in qualche lista fidata In cui è possibile trovare altre persone Che fanno lo stesso acquisto mio O un acquisto economicamente maggiore Questo mi promette di utilizzare I loro aiuti a catena Per farsi di ottenere a me lo sconto Ogni prodotto su Girada infatti ha uno sconto di tre livelli Una volta che io trovo una persona Ho lo sconto del primo livello Poi trovo la seconda e poi la terza persona Fino ad ottenere lo sconto massimo Quello che mi permette di pagare il note 320 euro Nel momento in cui io trovo solo una persona O ne trovo due Posso tranquillamente uscire dalla catena E acquistare il note utilizzando Lo stesso sconto di cui posso usufruire Portando una persona o due persone Se non trovo nessuna persona Io il note comunque lo riceverò Acquistandolo però al prezzo pieno 999 euro Di conseguenza nessuno truffa nessuno Il prodotto arriva I soldi non si perdono Detto questo Parlando col mio amico che ha aperto la lista Ho deciso di inserirmi anche io in questa lista Rimostro lo screen per mostrarvi Che comunque io ho pagato E ci sono questi tre codici in verde Che sono altre tre persone Che hanno fatto il mio stesso acquisto E che hanno aiutato me a ricevere il note E l'ho ricevuto Di conseguenza adesso mi trovo Un bellissimo Samsung Galaxy Note 8 Pagato 320 euro Ho venduto il mio S7 Ad un prezzo uguale o maggiore Chissà chi lo sa E di conseguenza adesso mi trovo In tasca un bellissimo Galaxy Note 8 Detto ciò ragazzi Io vi volevo dire semplicemente questo Non volevo dire andate ad acquistare su girata Volevo semplicemente spiegarvi Quello che è stata la mia esperienza Quello che ho fatto io E se magari vi interessa qualcosa in più Riguardante il sito Entrate in lista Che ci sono sempre io Che sto dando una mano al mio amico Con gli ultimi ordini rimasti Che sono lì Pronti ad essere spediti da girata E nel contempo incontrerete sia me Sia lui E sia potrete capirci qualcosa in più A girata Per entrare E per acquistare su questo fantastico sito Una cosa ovviamente è da considerare Io non ho messo i soldi adesso E ho ricevuto il prodotto domani Devono passare dal momento in cui trovo I miei amici 15 giorni di tempo Quindi praticamente Io ho acquistato il Note Esattamente 18 giorni fa Sì C'è stato praticamente il sabato e la domenica di mezzo E oggi mi è stato spedito Perché ho trovato i miei amici Nell'arco di tempo appena detto Quindi ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Scrivete nei commenti un po' Se andate ad acquistare su questo sito Se lo conoscete già O se non vi fidate Ovviamente posso darvi qualsiasi spiegazione In qualsiasi altro video Se volete mettete un pollice in su Magari posso spiegarvi qualcosina in più Riguardante a girata stesso E nulla ragazzi Fatemi sapere Scrivetevi E seguitemi sempre nei prossimi video Ciao